Fora una volta invito tutti i medici, tutti gli operatori sanitari e tutta la popolazione a vaccinarsi. Di speranza e di coraggio? Sì, soprattutto di speranza. Di coraggio diciamo ce ne vuole ben poco, però la speranza è quella che noi oggi cerchiamo. La fine di quest'incubo, cercando di convincere anche gli altri colleghi a seguirci e dare fine a questa... non so, come definirla? Dramma. Ci sono state scene che non potremmo mai dimenticare, mai. Questa è l'unica arma che ci è stata data e a questa arma noi dobbiamo prendere.